Maglia, anzi divisa nera con numeri verdi fluo per la formazione ospite, divisa bianca quest'oggi per il rosso-blu di Senigallia. Partiti allora in questo istante, andiamo a leggere le formazioni mentre ammiriamo la prima azione di gioco portata dalla squadra di Luigi Giandomenico. Partiamo proprio dal Valdichienti Ponte in campo con l'ex il numero 1 Simone Tavoni, numero 2 Daniele Salvatelli, numero 3 Marco Muzzi, numero 4 Michelangelo Monaco, numero 5 Nicolò Ormelini, numero 7 Mattia Emiliozzi con il numero 8 Nicola Gagliardini, numero 9 Roman Ciorno Pisciuc, numero 10 Mattieri Bichini, numero 11 Jacopo Stortini, in panchina il tecnico è Luigi Giandomenico. Ancora prova a spingere proprio il Valdichienti Ponte, prova a dopporsi la FC Vigor Senigallia in campo con il numero 1 Roberto Edoardo, Roberto uno dei due under con il numero 2 Nacciarriti, numero 3 l'altro under Filippo Rotondo con il numero 4 Marini, numero 5 Gambini con il numero 6 Maggi Galluzzi, Maglia numero 7 per Mancini con il numero 8 Siena, numero 9 Denis Pesaresi quest'oggi con la fascia di capitano al braccio per l'assenza o meno la presenza in panchina dall'inizio di Vitali e quindi con il numero 9 abbiamo detto Pesaresi, numero 10 Derrico, numero 11 Carzetti. Qualche cambiamento quindi nella formazione di Aldo Clementi che è il tecnico della Vigor, il modulo sembrerebbe essere lo stesso, ora lo ammiriamo fra qualche istante, se è un 4-3-1-2 puro con Derrico sulla tre quarti come immaginavamo ma di sicuro cambiano alcuni protagonisti perché Savelli si è fermato in settimana e quindi mister Clementi ha optato per Nacciarriti terzino, dalla parte opposta c'è ovviamente confermato Rotondo, l'under che sta facendo molto bene sin qui a cui adesso viene sanzionato un fallo che lascia un po' perplessi i dirigenti e comunque si è gli addetti ai lavori della Vigor, li sentiamo rumoreggiare un po' in tribuna e come si è presentato invece Gianluca e il Valdichienti Ponte, prime impressioni tecnico-tattiche? Sinceramente si è presentato bene perché è vero che sono passati due minuti però hanno tenuto palla loro e sono pericolosi anche adesso Sì scusa ti rubo il microfono per questo calcio di punizione come abbiamo visto sgusciare in mezzo all'area di rigore per il colpo di testa Ribichini esattamente era lui il numero 10 Palla fuori dicevi scusa Gianluca No, dicevo, il Valdichienti Ponte si è presentato con personalità come squadra perché insomma Borghesi in mezzo al campo non si discute ma starei attento anche agli attaccanti perché sia Cornopisciuc che io ho avuto un periodo a Montegiorgio sia Ribichini che ha ancora un emergente sono pericolosi Credo che, ripeto, si siano presentati bene perché hanno già dimostrato personalità nel giocare la palla e nel tenere il baricentro abbastanza alto Prime impressioni poi avremo modo di conoscere meglio, ancora meglio la formazione di Luigi Giandomenico che, a detta di chi parla, è una di quelle 9-10 formazioni e il cerchio è largo a mio modesto parere di squadre che possono ambire a stare nella parte altissima della classifica così come ovviamente anche la Vigor somiglia molto per certi versi nelle caratteristiche, nelle potenzialità a questo campionato, a quello della stagione scorsa in cui lo ricordiamo nel giro dell'andata furono ben sette, se non ricordo male, le squadre che si sono alternate al comando della classifica, salvo poi eleggere al maledetto lockdown il Castelfidardo come regina del torneo un campionato molto equilibrato, molto insidioso in cui anche la squadra fra virgolette, fra 18.000 virgolette, più scarsa è tutt'altro che un materasso morbido e quindi c'è da soffrire con tutti, basti ricordare insomma quanto accaduto anche nei turni precedenti in cui alcuni pronostici sono stati nettamente sovvertiti ora attacca Ille Valdichienti-Ponte bello vedere una partita comunque giocare sempre palla a terra con movimenti anche senza palle quindi vedere le squadre che si propongono in tutto e per tutto secondo le idee dei rispettivi allenatori un bel break da parte di Siena, andiamo in cronaca il pallone lanciato per Carzetti svirgola da quella parte Marco Muzzi non riesce a colpire il pallone, alla fine viene concessa quindi una rimessa laterale l'ultimo tocco è stato di un giocatore rosso-blu quest'oggi maglia-vigore, a proposito di rosso-blu notiamo come sull'angolino dello stadio in un varco in cui si può ammirare un po' la partita ci sia una bandiera che sventola probabilmente dietro anche qualche tifoso che prova a rubare scatti, fotografie, immagini di questo match perché la passione a Senigalli ovviamente è enorme ancora la vigore in pressione con la ribattuta da parte di Mancini che agisce con il numero 7 da mezzala sul lato destro del centrocampo della mediana della vigore su il tocco con la suola delle piede quindi è la rimessa laterale per il Valdichienti Ponte che ora prova a distendersi la palla va da sinistra a destra ma viene intercettata Pesaresi prova a lanciare e nescare Carzetti scatta il numero 11 della vigore applausi per l'idea e anche per la soluzione tecnica rimedia in fallo laterale la retroguardia del Valdichienti Ponte rimessa effettuata attacca la Vigor Senigallia con il pallone che entra in area di rigore attenzione a Pesaresi che per raggiustare il pallone si allunga la maglietta di Pesaresi un duello fisico probabilmente tutto regolare però qualche protesta da parte di Pesaresi un duello maschio vecchio stampo insomma in cui i difensori e attaccanti si sono aiutati per come hanno potuto poi buona giocata sulla destra da parte di Mancini che guadagna un calcio di punizione e quindi c'è questa battuta da fermo da posizione interessante Gianluca per la Vigor due minuti di attacco del Valdichienti due anzi tre da parte della Vigor anche qui sin qui tutto a specchio sì sicuramente quello che hai detto è giusto il Valdichienti si schiera con un 3-5-2 un 5-3-2 in fase difensiva con Borgese che fa il regista e cura un po' le mosse di Derrico dietro i tre si scambiano Pesaresi e Carzetti però secondo me sono due squadre votate all'attacco sono due squadre votate al gol quindi si dovrebbero vedere alcuni fuochi d'artificio e sicuramente belle giocate che alcune ne abbiamo già viste tra l'altro attenzione a questo calcio di punizione la battuta di Derrico il pallone che arriva in area di rigore era indirizzato verso Carzetti stato anticipato però bene dal numero 5 Alessandro Borgese che è il capitano del Valdichienti Ponte rimessa laterale va a recuperare il cuoio il numero 2 Enrico Nacciarriti quest'oggi nell'insolita posizione di terzino destro lui che è mancino puro sangue e che appunto di solito occupa ruoli sì sulla fascia o comunque sia in zone laterali ma dal centrocampo in su quest'oggi invece terzino destro per emergenza perché proprio in extremis in settimana si è fermato Savelli che sin qui è stato il titolare di quella corsia di quella posizione di terzino destro peraltro giocando come al solito molto bene però oggi è un po' emergenza per la Vigor perché come ha ricordato Gianluca Fenucci oltre a Savelli mancano anche Vitali e Lazare insomma oltre a tre ottimi giocatori e siamo anche riduttivi parliamo di tre ragazzi con grande esperienza con grande personalità quindi è una Vigor anche più giovane quest'oggi del solito che ora manovra con il pallone però che viene spedito fuori da un calciatore rosso-blu Marini perché a terra è rimasto per qualche istante Mancini rimane dolorante si dà il cinque con Gagliardini segno d'intesa ovviamente verrà restituito il pallone alla Vigor mentre osservano in piedi i due tecnici davanti alle panchine Aldo Clementi e Luigi Giandomenico il pallone viene puntualmente restituito alla Vigor in porta c'è Edoardo Roberto vi dobbiamo raccontare che anche per quanto riguarda il portiere c'era qualche dubbio per lo meno all'inizio settimana sino a metà settimana per la Vigor perché Roberto ha preso una brutta botta al palo in occasione del match del Conero con Lanconitana è rimasto dolorante il dolore che è emerso in settimana ad una gamba poi per fortuna si è ripreso è riuscito a ritrovare il posto fra i pali e in tutto ciò Minardi l'altro portiere della Vigor non under è reduce da un infortunio da cui sta recuperando e quindi due situazioni con l'asterisco risolte da Clementi con la partenza con il numero uno di Edoardo Roberto Vigor che attacca buono il pallone messo giù a terra da Carzetti palla per Pesaresi attenzione a Siena si libera lo spazio Siena in rete vantaggio della Vigor Senigallia la giocata sull'asse Pesaresi Siena e poi lui bravo a fintare a calciare in porta sorpreso però l'ex Simone Tavoni 1-0 per la Vigor Senigallia si una palla difficile per il portiere perché ha girato un po' forse non se l'aspettava neanche c'è stato un rimpallo una buona azione della Vigor un rimpallo che ha favorito Siena è stato molto sveglio molto rapido a tirare in porta e Tavoni insomma forse è stato un po' sorpreso ma non era comunque una una palla molto facile da da parare per quanto per quanto sia infilata centralmente però insomma come dicevamo un attimo fa si preannunciavano i fuochi d'artificio e sono cominciati presto perché sono passati sieno 8-9 minuti e non credo che sia finita qui la Vigor è stata brava e anche fortunata a trovare il gol subito questo potrebbe aprire la partita in maniera importante per i Vigorini però si vede che che il Val di Chianti Ponte non farà da spettatore sì bella disamina del gol in effetti la Vigor è stata brava e fortunata ha sottolineato bene Gianluca Fenucci perché c'è stato un bel lancio per Carzetti il pallone dopo un controllo di Pesaresi è schizzato lì diciamo che chi conosce Dennis Pesaresi sa che da quelle sportellate spesso ne esce o vincitore o parziale vincitore a supporto dei compagni che giustamente di fronte a un cristianone del genere decidono di andargli incontro in questo caso è stato bravo Andrea Siena quest'oggi in campo dall'inizio titolare dopo che nelle due precedenti occasioni era subentrato a Carbonari a partita in corso fra l'altro per Andrea Siena 201 presenze con la maglia della Vigor Senigallia lui che è nato cresciuto e divenuto un ottimo calciatore qui nella sua città con la maglia della sua squadra attenzione però questo pallone in area gran giocata da parte degli attaccanti del Val di Chienti Ponte e poi il tiro in mezza girata da parte del numero 7 Mattia Emiliozzi però il grosso era stato fatto da Ribichini e il suo compagno che aveva lavorato molto bene il pallone l'aveva arpionato nel cuore dell'area di rigore difesa della Vigor in questo caso stata leggermente sorpresa bravo Ribichini però poi non è riuscito a trovare lo specchio della porta Mattia Emiliozzi si resta sull'1-0 però anche in questo caso vediamo come ci sia la reazione immediata da parte del Val di Chienti Ponte che non ci sta ma c'è un gioco qui forse commette fallo Nicola Gagliardini non è così per il direttore di gara il signor Federico Battini della sezione di Foligno quindi un altro arbitro di fuori Regione ancora Val di Chienti Ponte pallone in area Ciorno Pisciuc prova a servire la corrente di Bichini la palla si impena duello fisico lotta Rotondo che copre bene il pallone sta diventando sempre più esperto il numero 3 Filippo Rotondo classe 2001 poi viene accordato un calcio d'angolo dubbi su questa su questa decisione si il calcio d'angolo probabilmente non c'era c'è da far una considerazione il Val di Chienti comunque ha reagito velocemente poi magari spendo due parole su Carzetti ma un po' più in là adesso adesso seguiamo in calcio d'angolo perché pronto alla battuta il calciatore del Val di Chienti Ponte sulla lunetta di destra attacco ferma tutto il direttore di gara perché in mezzo all'area c'è stato qualche contrasto di troppo l'arbitro va a redarguire Mancini che si era contrastato con il numero 4 Michelangelo Monaco e allora si deve ripetere la battuta sul pallone c'è Gagliardini con il suo sinistro pronto a liftare il pallone a rientrare verso la porta di Roberto che osserva dall'area piccola c'è Pesaresi sul primo pallo e lui a fare buona ottima guardia quell'altezza spazza anche bene con l'esterno non so se ho visto male ma mi sa che c'è anche parecchio c'è un po' di vento perché sembra essersi frenato il pallone osserviamo la bandierina in effetti sul rilancio di Pesaresi la palla ha frenato molto e poi il portiere Roberto l'ha mandata in fallo laterale perché è rimasto a terra Monaco nel calcio d'angolo precedente si viaggia sul punteggio di 1-0 siamo arrivati al tredicesimo minuto e 15 secondi del primo tempo si qui la decide Siena dicevi su Carzetti Gianluca? dicevo che Carzetti per gli addetti ai lavori è sempre un po' una croce una delizia molti sorridono però io credo che Clementi abbia fatto benissimo a volerlo perché è uno che lotta è uno che comunque anche nel gol si è dimostrato utilissimo ed è un giocatore che dove è andato comunque ha lasciato un po' il segno sia a Urbania che a Chiaravalle per esempio che all'Alma a Fano è sempre stato utilissimo e spesso decisivo quindi io ci scherzerei poco su e direi che è un giocatore concreto qualche volta eccede in piccole sceneggiate ecco perché forse gli arbitri qualche volta anche quando c'era fallo come prima non gli danno ascolto o non ci credono quindi se limita un po' quelle cose lì che poi sono anche una sua forza probabilmente diventa ancora più così ancora più forte di quel che perché poi sai è giusto anche a questi livelli gli arbitri guardialine si conoscono tutto conoscono i giocatori conoscono le caratteristiche quindi tante volte è un po' come la favola del lupo e delle pecore insomma rischia qualcosa di troppo Maggi Calluzzi che tarda nel cedere il pallone a Rotondo i due più giovani della formazione Vigorina mentre con Maestria Siena riesce a sgusciare via col pallone voleva servire Capitan Pesaresi è stato fermato e allora nuova trama di gioco offensiva da parte del Val di Chintiponte che parte dalle retrovie con Monaco che apre sulla corsia destra per Salvatelli uno sguardo in avanti poi decide di cambiare gioco con il sinistro non era un gran pallone però ha preso in controtempo Mancini quindi non è riuscito a fermare questo lancio il numero 7 della Vigor poi è intervenuto Nacciarrite in qualche modo ha guadagnato una rimessa laterale se ne è già andato il primo quarto d'ora di partita la Vigor sta vincendo 1-0 ovviamente è l'unico campo se non erro in gioco fino a questo momento perché tutte le altre partite dovrebbero iniziare alle ore 15.30 e allora tutti gli occhi del pubblico marchigiano dell'eccellenza sono sul Bianchelli e chi sta guardando questa partita sicuramente sta vedendo una bella partita qua Carzetti lavora di prima sulla sua traiettoria c'era Pesaresi che ancora una volta prova a dare fastidio ai giocatori avversari Tavoni che rilancia non è un gran che il suo passaggio intercettato da Rotondo poi bene Gambini il playmaker della Vigor che serve Pesaresi prova a mandare nello spazio Delrico fermata ancora Pesaresi lotta il pallone arriva da Delrico Fischio del direttore di gara a spezzare il tutto al sedicesimo minuto calcio di punizione c'è Borgese che con la sua grande esperienza e qualità nei piedi apre subito per Salvatelli all'indietro il pallone Carzetti prova a dar fastidio il lancio è dalle parti di Ciorno Pischuk poi duello Ribichini Marini per l'arbitro è scorretto l'intervento dell'esperto difensore ex Jesina fra le altre e allora calcio di punizione per il Valdichienti Ponte Ciorno Pischuk che diceva Gianluca prima lo ha allenato e che era in dubbio fino a qualche giorno fa poi dopo la partita di Coppa ha fatto capire che sarebbe stato a disposizione c'era il punto di domanda sul fatto che potesse partire titolare oggi oppure no e eccolo qua lo vediamo il bomber ex maceratese Treia fra le altre che è pronto peraltro a calciare lui questo calcio di punizione siamo più o meno a 25 metri abbondanti tendenti ai 30 dalla porta difesa da Edoardo Roberto ma Ciorno Pischuk sembra intenzionato a calciare quindi sistema con estrema cura la barriera il numero uno della Vigor Senigallia c'è anche Borgese attenzione la rincorsa sembra però il numero nove l'incaricato della battuta dritto per dritto rispetto alla barriera forse calcerà con il collo del piede sono curioso vediamo il fischio dell'arbitro la rincorsa si è l'esterno del collo voleva calciare la cosiddetta maledetta che tanti problemi crea ai portieri l'ha colpito un po' troppo sporca un po' troppo debolmente allora ben posizionato Edoardo Roberto ha fatto suo il pallone senza particolari difficoltà e quindi quando siamo arrivati al diciottesimo minuto del primo tempo c'è un nuovo possesso per la Vigor Senigallia che conduce 1-0 grazie al gol realizzato al decimo da Andrea Siena sta però prendendo nuovamente campo il Valdichienti Ponte con il suo fraseggio tambureggiante la Vigor si difende con ordine sembra quasi una partita a ping pong con le due squadre che giocano due o tre minuti ciascuna segno che la qualità di palleggio c'è da entrambe le parti Gianluca sì sicuramente hai detto bene tra l'altro sottolineavi alcune caratteristiche l'unica maledetta finora l'ha cacciata Siena è andata dentro è vero che magari Tavoni è stato sorpreso però non era una palla facile forse non si aspettava subito il tiro e Siena è stato molto bravo però dall'altra parte come dicevamo hanno reagito è una bellissima partita molto tirata molto con grande ritmo e penso che se ne vedranno ancora delle belle seguiamo questo calcio d'angolo per il Valdichienti Ponte questa volta da sinistra e quindi pallone ad uscire rispetto alla porta va incontro Borgese si fa vedere due contro uno in quella situazione mani dietro la schiena pronto a tamponare il cross da parte di Nacciariti il pallone arriva in aria pericoloso la palla si impegna prova la rovesciata ma commette sicuramente fallo perché ha colpito duro Maggi Galluzzi con questo colpo il numero tre Marco Muzzi ci ha provato il giovane classe 2002 due del Valdichienti Ponte ma per avere la meglio di un gigante come Rico Maggi Galluzzi ci vuole ben altro ha ricevuto il colpo un attimo di dolore poi di nuovo in piedi per avviare quest'azione pallone per Rotondo la sfera arriva da Siena che la lavora come al solito con maestria il pallone torna da Maggi Galluzzi con personalità i giovani della vigor fanno girare la sfera senza alcuna paura poi il lancio è di Roberto cercava di innescare Carzetti il controllo invece è da parte di Stortini poi il pallone per un attimo ha provato a scipparlo Delrico ha rischiato un po' il Valdichienti Ponte se l'è cavata però quindi Borgese sventagliata alla Verona delle sue il pallone controllato da Salvatelli rischia un po' in questa situazione la vigor se la cava Roberto certo che quando Borgese fa vedere certi lanci è un piacere per il palato di chiama il calcio no Gianluca? vero Borgese si conferma un giocatore di grande qualità non ci avrà più il dinamismo di una volta ma comunque è mobile e il Valdichienti Ponte diventa molto molto pericoloso quando la palla passa dai suoi piedi può inventare qualcosa in qualsiasi momento ora però c'è la vigor che è tornata in attacco sulla corsa di Mancini è fruttato un fallo laterale tra l'altro mi sono appellato a Verona noi guardavamo il calcio anche qualche anno fa tu anche qualche anno più di me e sottolineiamolo e quindi qualche decennio e quindi insomma gli esempi che ci vengono sono un po' malinconici ovviamente torniamo in cronaca datati datati con la vigor che prova a sviluppare l'azione sulla destra poi mi dirai un altro che faceva sventagliate negli anni 80 magari insomma esempi importanti dai torniamo in cronaca c'è modo ovviamente anche per sorridere perché anzitutto vedere una partita di calcio oggi come oggi non è scontato e quindi ce la dobbiamo anche godere fino in fondo torniamo però in telecronaca diretta la rimessa laterale per la vigor Senigallia con Rotondo che c'è dall'indietro per Maggi Galluzzi fa salire il Val di Chienti Ponte la vigor Senigallia cercando di stanarla un pochino di trovare qualche spazio in più dalle parti di Pesaresi Carzetti ed Enrico i tre che attaccano la prima linea difensiva del Val di Chienti Ponte rimessa laterale qua mi sembrava per la vigor non è d'accordo il guardaline ha postato sotto di noi il signor Simone Tidei della sezione di fermo dalla parte opposta c'è Francesco Feliziani della sezione di San Benedetto del Tronto rimessa laterale il cui punto di battuta viene corretto dal signor Batini di Foligno effettuata c'è Borgese che fa il playmaker basso giostra il pallone capitano Borgese dalle parti di Muzzi quindi il pressing da parte di Mancini che corre veramente per due ogni partita questo ragazzo tornato a Senigallia è rientrato quindi alla vigor dopo alcune esperienze importanti in altre piazze tre partite che lo seguiamo tre volte che lo vediamo correre veramente il doppio rispetto agli altri quattro polmoni per lui qua invece ammiriamo le giocate di Gambini altro cavallo di ritorno per la vigor che apre per Mancini prova a inventare il numero 7 si sovrappone dalle sue parti del ricco gli crea un po' di spazio per rientrare all'indietro pallone per Nacciariti che a sinistro allora c'è ancora per Mancini ritmo tambureggiante ce ne sono tanti in area per la vigor però il valdicchienti ponte chiude bene non concede Varchi su quella corsia brava la formazione di Gian Domenico perché aveva anche creato un po' di superiorità la vigor in questa circostanza non ha concesso comunque il cross alla formazione di Aldo Clementi che allora riparte dalla rimessa laterale Nacciariti si fa vedere del ricco ancora una volta il pallone è spedito fuori tutto questo quando siamo arrivati al ventiquattresimo minuto del primo tempo e la vigor è sempre avanti per uno a zero grazie al gol trovato da Siena con la botta dal limite dell'area che ha sorpreso l'ex portiere della vigor una stagione sola con la maglia rosso-blu quella scorza e quest'anno per la prima volta è con la maglia del valdicchienti ponte mentre da questo intervento è in take il decisissimo di Gambini però sul pallone perché il pallone è schizzato verso la porta di Tavoni per poco diventa un tiro questo intervento è dovuto schizzare da quella parte all'improvviso Tavoni e mandare la sfera in calcio d'angolo intervento durissimo non so se era gioco pericoloso oppure no un commento flash secondo me due piccoli errori uno dell'arbitro perché è vero che l'intervento era sul pallone ma pericoloso è uno di Tavoni perché la palla andava fuori e ha concesso un angolo forse non se ne era accorto adesso l'angolo è pericoloso e seguiamolo con la battuta di Derrico lui che nella prima giornata di campionato dalla lunetta da quest'altra parte del campo ha disegnato praticamente due assist mette in mezzo cercava Marini il pallone all'altezza del primo pallone viene liberato dalla difesa del Valdichienti Ponte poi la palla va da Pesaresi prova l'acrobazia quindi il tiro di prima diventa un ping pong questa giocata un flipper alla fine con grande qualità Ciorno Pischuk riesce ad uscire palla al piede c'è il fallo di Mancini si becca anche il cartellino giallo il numero 7 della Vigor è il primo ammonito della partita Mancini tra l'altro non ha protestato più di tanto anzi non ha protestato per niente Mancini dandoci l'impressione insomma che l'intervento la sanzione decisa dal direttore di gara sia stata corretta per quanto abbiamo visto un fallo con i nostri occhi abbastanza semplice no Gianluca eppure Mancini non ha protestato quindi forse ha visto meglio l'arbitro perché comunque era il primo fallo di Mancini credo quindi mettere mano ai cartellini con facilità a me non piace quando serve magari ecco un metro di giudizio prima non ha fischiato quell'entrata che era pericolosa qui ammonito secondo me non andava ammonito anche se fallo c'era niente di trascendentale comunque quindi si riparte dalle mani di Roberto Magigalluzzi allunga il passo si ritaglia un po' di spazi in mezzo al campo poi vada Pesaresi che fa ottima sponda per Derrico allora prova di stendersi la Vigor preferisce sterzare però sulla sua mattonella Derrico che sistema lo scarpino appoggia la palla Mancini che qua è stato un po' frettoloso nel servire Pesaresi era il ritardo rispetto al suo diretto marcatore quindi palla persa dalla Vigor rimanera un po' ingenua in questo caso allora torna ripiega nella sua metà campo la formazione di Aldo Clementi prova invece ad allungarsi in avanti quella di Gian Domenico che scatta quasi sulla fascia per dare indicazioni ai suoi giocatori voleva che il terzino opposto salisse ed eccolo qua servito proprio lui Daniele Salvatelli ce l'aveva con lui mi è sembrato di vedere il suo allenatore però gran lavoro difensivo da parte di Filippo Rotondo che si prende gli applausi dei pochi ai noi presenti al Bianchelli ruba palla e guadagna anche calcio di punizione una palla letteralmente sradicata dei piedi del suo avversario certo che questi giovani della Vigor li lanci in campo fanno qualche mese e poi sembrano già quasi dei veterani ma la tradizione del settore giovani della Vigor vince perché si dimostra che producono sempre ottimi giocatori segnalo anche il portiere non so quante squadre giochino con un 2003 in porta l'ho visto pure domenica a Dancona al Del Conero ha fatto buone cose tiene il campo e la porta come un veterano esce non ha paura e anche questo terzino che dicevi Rotondo mi sembra molto molto bravo quindi ecco il settore giovanile della Vigor dà continue risposte e qui abbiamo visto anche che non manca personalità e decisioni insomma in questo intervento che non è poco per un ragazzo del 2001 torniamo a raccontare il match nelle sue evoluzioni nelle sue azioni con questo pallone impennato da Gambini il pallone in avanti gran giocata di Pesaresi qualche dubbio su questa palla in verticale per Derrico si alza la bandierina viene sventolato il fuorigioco l'azione è stata molto bella classica centrocampista centrale punta incontro l'altra attacca la profondità e sarebbe andato verso la porta Derrico si è alzata la bandierina qualcosa in più di un dubbio sinceramente però non ho visto grandi proteste anche in questo caso mi fido anzitutto dell'assistente dell'arbitro volgarmente fra virgolette definito guardaline e anche i giocatori della Vigor che non si sono lamentati più di tanto però insomma Gambini Pesaresi Derrico o Carzetti bella questa azione della Vigor si c'è velocità anche quando la palla non è a terra giocano di testa e giocano bene perché in certi frangenti in poco spazio ci sono tanti giocatori quindi c'è pressing la Vigor gioca bene gioca bene il Valdichienti finora il gol di Siena fa la differenza però la Vigor sta controbattendo e sta mantenendo il risultato giustamente gli altri devono fare qualcosa in più perché devono rimontare ma la Vigor può punire in qualsiasi situazione bella l'uscita da pressione da parte della Vigor qua con Pesaresi che lancia per Mancini scattato proprio a occhio nudo visibilmente dopo il difensore quindi posizione regolare però il suo controllo non è stato agevole due volte che vedo il pallone frenare in maniera un po' singolare quindi nonostante alla vista non si veda chissà quale evento però evidentemente i suoi effetti per la direzione per la forza sono considerevoli e quindi il pallone adesso è stato recuperato nuovamente dai rosso-blu di Clementi ancora pressing invocato da Gian Domenico bello l'atteggiamento della Valdichienti Ponte che assolutamente non indietreggia di una virgola e quindi il campo si allunga il campo si apre e ne emerge una partita tosta eccolo qua l'esempio che il vento è molto molto forte molto più di quanto non ci appaia a prima vista sul rilancio di Roberto il pallone è praticamente tornato indietro e qua invece è uscito in fallo laterale attenzione alla rimessa in favore della Valdichienti Ponte affidata alle mani di Salvatelli si fa incontro Borgese stop controllo uno sguardo il passaggio all'indietro per Armellini palla in avanti chiude ancora Rotondo che oltre a disputare una grande partita è sicuramente il giocatore più impegnato fino a questo momento della difesa dell'FC Vigor Senigallia perché evidentemente il Valdichienti Ponte sta preferendo di attaccare da quella parte qua sullo stretto lavora molto bene il pallone Monaco poi cede di nuovo a Salvatelli quindi Borgese cambia gioco lascia scorrere Nanciarriti rischia un po' perché stava tagliando alle sue spalle Stortini ma per sua fortuna il pallone è risultato comunque troppo lungo e quindi irraggiungibile per il calciatore del Valdichienti Ponte tutte e due le squadre sono ora nella metà campo della Vigor Senigallia difesa molto alto ovviamente da parte del Valdichienti Ponte che sale con i suoi avanti sale con anche le seconde linee centrocampo e difesa mentre inizia a piovere inizia a piovere quindi come in occasione della prima giornata casalinga contro il San Marco Servigliano anche oggi campo bagnato qui al Bianchelli durante la partita prova una soluzione improbabile da 40 metri Michelangelo Monaco il pallone viene ribattuto da un giocatore della Vigor fase un pelo più frammentata quasi fosse un desiderio prendere respiro da parte delle due squadre dopo una mezz'oretta 30 minuti e 45 secondi direi ad ottima intensità Sì il Valdichienti Ponte non deve fare l'errore di precipitare le cose di affrettare le soluzioni deve continuare a giocare e non solo tramite Borgese anche adesso la soluzione di Monaco di un tiro improbabile da 40 metri mi sembrava inopportuna la Vigor si sta difendendo senza affanno e riparte con pericolosità è un copione che ci sta vedendo il risultato di 1-0 per il rosso-blu ora c'è un calcio di punizione per il Valdichienti Ponte è stato fischiato dalla direttore di cara è stata fischiata sanzionata una scorrettezza da parte di Carzetti che Reo secondo il signor Battini di Foligno di essersi appoggiato in maniera scorretta appunto su un avversario stanno parlando i due l'arbitro Battini e il numero 11 in maglia bianca tutto pronto per questa punizione Borgese sventaglia sulla destra di testa rimette dentro il pallone Armellini forse con un braccio controlla Ciorno Pischuc lascia correre il direttore di gara e si distende adesso la Vigor il pallone da Gambini a Mancini che allunga la sua falcata Mancini va in avanti c'è molto spazio può continuare ad attaccare Pesaresi di prima per Derrico bella azione della Vigor ancora Derrico poteva servire Pesaresi preferisce entrare in area Derrico tiro deviato grande azione della Vigor Senigallia partita dalle retrovie è arrivata sino alla conclusione di Gianfranco Derrico il pallone che è stato deviato in calcio d'angolo peraltro Tavoni si era disteso dalla parte opposta perché alla sua destra era indirizzato questo tiro una deviazione ha mandato la palla vicinissima invece al palo alla sinistra di Tavoni e quindi si è rischiato il patatrack per il Val di Chienti Ponte ma onore e applausi ha la Vigor per questa bellissima azione che ha prodotto fra virgolette però solo un calcio d'angolo la battuta è di Derrico il suo solito destro ad uscire il pallone in area saltano in due il pallone arriva fuori da Siela che si coordina destro strozzato come si suol dire il pallone che va a sbattere contro il petto di un difensore del Val di Chienti Ponte per i giocatori della Vigor c'è stato un tocco di mano ma non è stato d'accordo l'arbitro non siamo d'accordo neanche noi tutto regolare rimessa laterale affidata a Filippo Rotondo con le mani il movimento di Carzetti riceve il pallone incontro l'assist per Siena la palla schizza da Gambini prova a giocarla in mezzo a un ugolo di gambe quindi alla fine Siena bella l'apertura per Carzetti in area Carzetti sinistro e tocco sotto e il pallone che si bella vicino al palo ancora Vigor vicino al gol applausi di tutto il pubblico presente sotto la nostra postazione qui al Bianchelli parliamo di dirigenza giocatori infortunati più ovviamente addetti ai lavori ovvero giornalisti e colleghi della carta stampata bella azione con Gambini protagonista in avvio poi Siena che ha rifinito per Carzetti quest'ultimo ha prima saltato un avversario e poi ha mandato il pallone fuori di poco ora è la volta del Valdichienti Ponte davvero una gran bella partita qui al Bianchelli di Senigallia Ciorno Pischuk prova a cedere il pallone all'indietro stessa cosa fa dopo averlo recuperato rotondo l'assist per Maggi Galluzzi poi rotondo con grande personalità prova il dribbling ottiene la rimessa laterale non butta via il pallone la Vigor Senigallia non vuole regalare autorità al Valdichienti Ponte oltre che campo e pallone ora però lo recupera la squadra di Gian Domenico sale sulla sinistra Stortini l'ex Castelfidardo che prova a rientrare il pallone perso ancora Mancini che si allunga mamma quanto corre questo ragazzo il pallone per Pesaresi che è sempre lì pronto a ricevere e a fare da sponda ora per Derrico ancora Pesaresi dialoga con il suo collega di reparto Gianfranco Derrico la sua grande qualità fra i piedi prima cerca una soluzione in avanti poi non trova spazio e allora decide di ricominciare il palleggio con Gambini non deve cedere ovviamente Derrico specialmente in quella posizione di campo perché il Valdichienti Ponte è pronto a mordere in pressione c'è uno piscio che qua si sgancia da solo da un'occhiattaccia ai compagni perché era andato in pressione solitaria cosa che mister Fenucci poi ci dirà non va mai assolutamente fatta per non correre a vuoto altra palla recuperata da Rotondo sicuramente fra i migliori in campo fino a questo momento si va a guadagnare un altro calcio di punizione partita che si riaccende Gianluca Valdichienti Ponte che da qualche minuto sta subendo gli allunghi della vigora si sta allungando un po' la squadra di Gian Domenico quindi rischia qualcosa di troppo senza essere mi sembra pericoloso in avanti sì è verissimo la vigora è andata vicino al 2-0 in due o tre circostanze anche clamorose frutto anche di buone giocate Delrico sta crescendo vedo che non soffre più di tanto il fatto che Borgese spesso è sulle sue piste si poteva far giocare un paio di palle in più qua a Carzetti adesso c'è un fallo abbastanza duro di di Rotondo forse il cartellino ci sta anche se finora il difensore della vigora era stato correttissimo e direi impeccabile nei suoi interventi questo fallo è abbastanza duro ci sta il il cartellino giallo spero che non pesi più di tanto perché è un ragazzo che finora ha fatto vedere cose ottime in questa primi 36-37 minuti di gioco come hai detto tu comunque la vigora ha sorbito molto tranquillamente la reazione del Val di Chienti adesso torna a essere una partita molto aperta che vivrà anche su episodi chiaro e allora seguiamo questo calcio di punizione con grande interesse affidato al destro assai educato e potente di Borgese il vento soffia sulla sua maglia lui scarica il pallone sulla fascia opposta con il centimetro va a pescare Monaco che rimette dentro di testa però ancora una volta si fa trovare attento reattivo concentrato Edoardo Roberto che va a bloccare il pallone in presa alta nei pressi del dischetto dell'area di rigore del dischetto del calcio di rigore il pallone va sulla destra prova a salire Nacciarriti ancora un fallo fischiato alla Vigor Senigallia due ammoniti nella formazione di Aldo Clementi lo ricordiamo prima Mancini poi Rotondo adesso richiamo credo solo verbale per Nacciarriti che non ha lasciato il pallone a terra non l'ha reso giocabile e quindi l'arbitro lo ha richiamato si aspetta il fischio del direttore di gara del signor Federico Battini nella sezione di Foligno per la ripresa delle ostilità siamo al trentottesimo minuto esatto adesso ce ne sono sette più eventuale recupero perché è lunga pausa e non le ricordo al termine del primo tempo poi qua c'è un malinteso fra Monaco e Salvatelli quindi può respirare la Vigor può tornare soprattutto in possesso palla la rimessa è affidata a Rotondo come abbiamo visto e raccontato a Monito Pocanzi gli viene incontro Delrico il suo controllo non è ottimo e allora lotta il numero 10 dopo aver perso il pallone prova a recuperarlo la sterzata decisa da parte di Gagliardini a centrocampo nella Val di Chienti Ponte Gagliardini mi sembra quello che sta provando a fare qualcosa in più nel cuore della mediana della Val di Chienti Ponte con la palla fra i piedi mentre Borgese è quello che prova ad illuminare con le sue verticalizzazioni con i suoi cambi di gioco in questo caso Borgese appoggia corto invece per Armellini va vicino anche lui al numero 2 Salvatelli pallone messo dentro Marini fa buona guardia la palla arriva da Delrico che è rovesciata cerca l'assist per Pesaresi arriva leggermente in ritardo il bomber della Vigor due gol in due partite per Denis Pesaresi in questo avvio di eccellenza si distende ancora il Val di Chienti Ponte dalla parte opposta alla sinistra Rischiamancini che ha munito per sua fortuna toglie la gamba all'ultimo perché un altro intervento di quel tipo gli sarebbe sicuramente costato il giallo e quindi l'espulsione poi Delrico all'indietro per Rotondi il pallone avanti per Pesaresi di testa prova a innescare Carzetti che scala le marce con un po' troppa in sicurezza in questo caso Nicolo Armellini classe 2000 manda il pallone fuori c'era Tavoni abbastanza comodo invece ha preferito mandare il pallone in fallo laterale il numero 6 del Val di Chienti Ponte e quindi rimessa laterale in zona d'attacco per la Vigor Senigallia con calma Rotondo va a recuperare il pallone siamo a pochi metri dalla bandierina del calcio d'angolo nel lato sinistro d'attacco della Vigor come potete vedere si fa incontro Siena di prima sbaglia l'appoggio la palla però per fortuna di Rotondo carambola sulle gambe di Muzzi e quindi è una nuova rimessa laterale per la squadra di Clementi sportellate fra Carzetti e un difensore avversario sguccia via Carzetti fischia fallo al numero 11 della Vigor dicevi Gianluca scusa qualche minuto fa anche prima c'è stato un fallo su Carzetti questo magari non era rigore però io non avrei fischiato anche perché la palla era arrivata al portiere quindi c'è stato un fallo a metà campo su Carzetti che secondo me è figlio delle cose che dicevamo prima è chiaro che l'arbitro è di Poligno non è che conosca Carzetti di nome però so come funziona ed è forse anche giusto è come vuol dire che anche gli arbitri si preparano e tra loro comunicano sicuramente gli assistenti hanno detto che Carzetti è uno incline a star per terra però qualche volta Carzetti sta per terra perché subisce fallo e stavolta magari non era rigore ma la volta precedente era un fallo su Carzetti anche abbastanza netto quindi sarebbe il caso di fischiare quando è giusto insomma tutto qua non ci sta convincendo entusiasmando entusiasmando il direttore di gara non ci sono errori clamorosi non ci sono cose clamorose però in alcune cose così a me non ha convinto per numero parlo per me devo essere sincero io da qualche anno che dico che gli arbitri non marchigiani non sono migliori dei nostri è giusto che li facciavano venire nelle partite di cartello perché si sa però anche l'arbitro per esempio di Ancona-Vigor domenica non è che mi sia piaciuto particolarmente o più dei nostri quindi anche questo mi sembra nella norma seguiamo ora il calcio d'angolo perché ci avviciniamo al finale di siamo entrati nel finale di primo tempo quarantaduesimo minuto ne mancano tre più recupero una bella palla in area esce Roberto che ha invocato il fallo poi pochi istanti dopo è caduto a terra un calciatore il Valdichienti Ponte che non riusciamo a riconoscere che mi sembrava l'autore dell'entrata su rotondo allora stavolta siamo assolutamente d'accordo con il direttore di gara perché l'entrata tosta non cattiva ovviamente l'ha fatta Marco Muzzi è lui che poi è rimasto a terra dolorante per un istante ma quando si è rialzato il direttore di gara non lo ha esonerato dal cartellino giallo terza munito di una partita gagliarda bella lottata con decisione nelle situazioni di contrasto ma assolutamente corretta partite come quelle che ci piacciono e ci piace anche vedere come tutte e due le formazioni siamo arrivati a ridosso del 45esimo minuto continuano a giocare il pallone regalando un piacevole spettacolo a chiunque stia ammirando questo match noi per primi e voi in nostra compagnia se siete collegati sintonizzati su ETV Marche sulla app di ETV che ogni settimana vi regala le partite più belle del campionato di eccellenza in diretta sui vostri monitor che sia televisione che sia un dispositivo mobile attenzione a questa gran palla che da destra taglia tutto il campo arriva dalle parti di Ribichini il controllo è buono un altro tocco a stringere forse un po' troppo l'angolo di tiro a quel punto Ribichini si è anche allungato la palla ha calciato fuori buona chance però questa che annotiamo per il Val di Chienti Ponte al 43esimo minuto con Ribichini protagonista un po' come in avvio di partita quando aveva agganciato il pallone poi lì l'aveva servito per un compagno qua ha calciato senza trovare lo specchio della porta e allora va al rinvio Edoardo Roberto mancano 100 secondi esatti al 45esimo minuto vedremo se ci sarà recupero di certo c'è il fastidio portato da Carzetti a Tavoni su questo rilancio la palla arriva da Marini che di testa voleva mandarla in avanti invece la manda indietro bisogna fare attenzione al vento quindi recupera la sfera la squadra ospite il pallone messo dentro Gambini fa da schermo lì davanti alla difesa appoggia lì indietro per Naccialiti che rischia un po' ma se la cava con il destro manda da Pesaresi prova a saltare con mestiere e esperienza Borgese prima gli dà fastidio poi recupera il pallone e poi dà avvio ad una nuova azione gran partita anche di Borgese sempre nel vivo delle manovre del Valdichienti Ponte grande scivolata di Mancini un calciatore come pochi con queste caratteristiche non solo nella Vigor ma un po' in tutta l'eccellenza qua rischia tanto Marini con un gioco di gambe si è un po' ingarbugliata qui un po' di eccesso di confidenza per la Vigor Senigale che a 30 secondi dall'intervallo va a regalare una rimessa laterale in zona d'attacco al Valdichienti Ponte preparati la sintesi di questo primo tempo Gianluca perché te la chiederò al duplice fischio adesso continuiamo a seguire il match nelle sue battute conclusive della prima frazione con Gambini che stoppa e rilancia va da Pesaresi spinta evidente in questo caso da parte di Muzzi calcio di punizione per i rosso-blu di Senigallia quest'oggi in maglia a bianca mentre abbiamo visto arrivare anche qualche notifica con i primi gol del sì i primi gol del primo tempo o meglio il primo gol oltre a quello della Vigor ovvero Paradisi del Fossombrone che ha portato avanti la squadra pesarese sul Fabriano Cerreto che mi sembra di capire che Gianluca Fenucci conosca da lontano per qualche per qualche esperienza precedente anche recente non è finito il primo tempo allora non abbiamo visto evidentemente quindi pardon non ve l'abbiamo segnalato eccolo là adesso 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 quindi siamo in tempo il recupero accordato che è di un minuto se ne sono già andati 30 secondi quindi ultimi 30 secondi del primo tempo un pallone che si alza a campanile c'è Carzetti che riesce ad allungarlo verso Pesarelli stavolta è lui che tiene la posizione ai danni di Salvatelli poi prova a servire Carzetti in avanti forse poteva aspettare qualche istante non è finita però Derrico alza la testa sul secondo pallone c'è Siena il pallone arriva in aria di testa se la cava la difesa della Val di Chienti Ponte poi Shabat per Borgese che è come se stesse palleggiando con il nipotino nel giardino si alza il pallone poi lo libera arriva il duplice fischio e allora si finisce il primo tempo 1-0 per la Vigor Senigallia decide fino a questo momento il gol di Siena al decimo minuto in compagnia come nella prima frazione di Gianluca Fenucci che ringraziamo ancora per il suo supporto tecnico nel vero senso calcistico della parola secondo tempo in cui daremo subito un'occhiata se ci sono stati cambiamenti di protagonisti da parte dei due allenatori a primo sguardo non mi sembra mi sembra ci siano gli stessi 22 ammirati nel primo tempo e subito Val di Chienti che prova ad attaccare nel tentativo di recuperare il punteggio di parità calcio di punizione sulla tre quarti campo del Val di Chienti affidato alla destra di Capitan Borgese classe 1985 calciatore con una grande carriera importante alle spalle anche fra i professionisti e allora Val di Chienti Ponte rapidamente che riparte con Tavoni Salvatelli Muzzi Monaco Borgese Armellini Emiliozzi Gagliardini Ciorno Pisciuk Ribichini Stortini Lavigor che replica come nel primo tempo con Roberto Nacciarriti Rotondo Marini Gambini Maggi Galluzzi Mancini Siena Pesaresi Delrico e Carzetti punizione di Borgese bassa insolitamente bassa deviata in barriera da Delrico poi il pallone che rimbalza all'altezza dell'area del limite dell'area di rigore della Vigor prima di terminare fuori ma c'è stato un fischio del signor Federico Battini della sezione di Foligno a sanzionare un calcio di punizione in favore della squadra di Aldo Clementi il pallone se l'è sistemato il giovane portiere Edoardo Roberto classe 2003 che l'ha appoggiato prontamente sulla sinistra per Maggi Galluzzi quindi lo lascia scorrere con un buon controllo il terzino Filippo Rotondo l'altro under la palla indirizzata a Carzetti cade a terra voleva il fallo non è così ancora una volta per il direttore di gara occhiataccia di Carzetti che voleva l'intervento del direttore di gara che arriva invece adesso per un fallo di Ribichini su Maggi Galluzzi calcio di punizione per la Vigor si è ripartiti da due minuti ovviamente punteggio fermo su 1-0 per la Vigor pallone un po' insidioso questo di rotonda all'indirizzo di Gambini che infatti non può raggiungere l'ora di nuovo possesso per il Valdichienti Ponte che è ripartito forte a caccia del gol del pareggio tema tattico che si ripropone come nel cuore del primo tempo Valdichienti che prova ad attaccare Vigor che prova a replicare e magari se ce la fa a ripartire in contropiede qua esce bene palla al piede Monaco Pesaresi non vuole farlo andare via si aggrappa all'avversario ha rischiato il cartellino giallo perché è stata plateale questa trattenuta di capitano quest'oggi Denis Pesaresi invece per l'arbitro solo punizione gioco già ripreso e palla già riguadagnata dalla Vigor Delrico smista per Siena in avanti voleva Pesaresi pallone a un'altra volta impreciso e un altro break da parte del Valdichienti Ponte la sfera che arriva sui piedi di Stortini appoggia per Gagliardini lanci in avanti chiude bene la diagonale rotondo spazza la palla che praticamente torna sui piedi del numero 8 in Maglia Nera buona giocata di Stortini si appoggia sul numero 3 Marco Muzzi uno dei tre under titolari nel Valdichienti Ponte quest'oggi Salvatelli con il 2 Muzzi con il numero 3 Mattia Milozi con il numero 7 palla persa qua da Gambini un paio di errori in disimpegno di troppo da parte dei Senigalliesi e allora da 4 minuti quasi attacca costantemente il Valdichienti Ponte Borgese non ha alcuna paura della pressione di Pesaresi se la cava scambia con Muzzi che gli fa da battimuro prima che Borgese rilanci in avanti a cercare Gagliardini cerca il controllo a tagliare fuori il terzino Nacciarite non gli riesce comunque recupera il pallone tambureggiante ora il tentativo di attacco del Valdichienti Ponte che produce un cross il pallone di petto arriva poi dalle parti di Ribichini per l'arbitro però c'è da fermare il gioco perché c'è stata la bandierina alzata da parte del signor Francesco Feliziani l'assistente più lontano rispetto al nostro occhio elettronico rispetto alla nostra telecamera quindi gioco fermo calcio di punizione e può ripartire la Vigor 4 minuti e 10 secondi pressione molto alta del Valdichienti Ponte riesce in qualche modo ad andare via Nacciarriti poi Derrico le sue finte sugli avversari cerca un po' di spazio per giocare il pallone riesce quantomeno a girarsi Derrico poi il pallone va da Mancini lo tiene in campo bene la palla arriva da Carzetti che come al solito lotta con gli avversari la palla è recuperata c'è il fallo però di Mancini protestano dalla tribuna del Bianchelli però l'intervento di Mancini onestamente l'ho visto in maniera abbastanza chiara e quindi c'è il calcio di punizione per il Valdichienti Ponte primo flash di Gianluca Fenucci è ripartito forte il Valdichienti Ponte a caccia del pareggio sì anche se sinceramente non ha creato occasioni pericolosissime però come dicevamo partita equilibrata 1-0 si recupera e adesso bisogna vedere soprattutto questi primi 20 minuti perché magari l'inerzia viene spostata da una parte o dall'altra le caratteristiche delle squadre sono quelle del primo tempo non ci sono stati cambi quindi si viaggia comunque sul filo dell'equilibrio 5 minuti e 20 secondi calcio di punizione ora per la Vigor Derrico alza le braccia a chiamare i movimenti dei compagni cerca sul secondo palo Pesaresi di testa a rete rete di Pesaresi la pennellata di Derrico l'incornata del bomber e la Vigor ha raddoppiato gran bel gol di Dennis Pesaresi tre gol in tre partite Gianluca un giocatore fondamentale per la Vigor un giocatore fondamentale per il campionato e anche questa volta viene dimostrato che insomma chi ha attaccanti forti chi ha attaccanti che hanno dimestichezza con il gol è avvantaggiato la difesa del Val di Chienti mi è sembrata abbastanza aperta abbastanza ballerina ma anche chi ha battuto la punizione che credo sia stato Derrico ha messo una palla molto invitante è chiaro che in questa difesa del Val di Chienti manca uno come Montserrat che si sente questa palla magari l'avrebbe gestita lui in un altro modo c'è da dire che come ho anche affermato prima che insomma chi ha gli attaccanti un po' più concreti alla fine avvantaggiato insomma Pesaresi è un giocatore che per questa categoria fa la differenza bella davvero la sua incornata si è vista sin dall'alba del cross di Derrico la posizione invitante di Pesaresi lasciato però un po' troppo colpevolmente solo dalla difesa del Val di Chienti Ponte perché l'abbiamo visto prima che partisse il pallone che era abbastanza libero il pallone è andato lì davvero una pennellata di Derrico attenzione però alla pronta replica del Val di Chienti Ponte che ora deve recuperare due reti e due gol di svantaggio Siena nel primo tempo Pesaresi al sesto del secondo e quindi la vigore avanti due reti a zero per la gioia dei dirigenti dei giocatori e dei tifosi fuori dallo stadio qui al Bianchelli Pesaresi che ha preso ha avuto il tempo di prendere la mira da quella posizione non poteva sbagliare continua a pressare il Val di Chienti Ponte ora più che mai cerca un gol per riaprire la partita intervento rischioso qua di Carzetti calzando molto la gamba per fortuna è rimasto distante il suo avversario non è riuscito a colpirlo cosa che ovviamente non voleva fare ma involontariamente ha evitato il duro contrasto ottima ancora una volta la pressione di Mancini che sia in fase di interdizione che di ripartenza da quella parte da questa parte per la vigora ha disputato una buonissima gara fino a questo momento siamo arrivati all'ottavo minuto scaduto del secondo tempo cerca di avanzare il Val di Chienti Ponte ma sul lato sinistro c'è Siena che fa buona guardia il pallone per Gambini che senza paura in mezzo a tre avversari controlla alza la testa appoggia per lo stesso Siena guadagna una rimessa laterale la Vigor Senigale è partita che è riniziata con un ritmo ancora più tamboreggiante del primo tempo davvero un piacevolissimo spettacolo qui al Bianchelli fra due formazioni che sono convinto faranno bene in questo campionato quanto saranno loro a raccontarcelo nel corso della stagione che si gioca senza pubblico ma che proviamo a farvi vivere con le telecamere di ETV vi ricordo che siamo sintonizzati in diretta sulla app di ETV Marche e che trovate una partita ogni settimana anche sul canale 12 della emittente Marchigiana ETV Delrico Guizzo fallo di Borgese calcio di punizione e l'arbitro evidentemente dà un altro segnale che conferma la sua filosofia di direzione mostrata nel primo tempo quando fermi un'azione in maniera abbastanza volontaria di ripartenza o presunta ripartenza per lui c'è il giallo e così arriva il primo ammunito in questo secondo tempo e anche nel complesso si tratta della quarta ammunizione della partita arriva il primo ammunito di questo secondo tempo anche per il Leval di Chionti si tratta di Borgese dopo che era stato ammunito Muzzi sempre per la squadra di Gian Domenico nel primo tempo due ammuniti anche per la Vigor ovvero Mancini e Rotondo quattro cartellini gialli nel contesto all'interno di un match che l'abbiamo detto anche durante il primo tempo risulta Gagliardo ma mai assolutamente scorretto ora Delrico va da Carzetti solita guerra con un difensore lotta di posizione e di fisico alla meglio la retroguardia del Val di Chienti Ponte la sventagliata lunghissima da parte di Monaco ma c'è Maggi Galluzzi che interviene a fermare tutto qua per l'arbitro il fallo da parte dell'attaccante del Val di Chienti Ponte Ciorno Pischuc che protesta rischia il giallo perché l'arbitro lo redarguisce mette simbolicamente la mano nel taschino come a dirgli non insistere altrimenti tiro fuori il giallo si ferma il numero 9 il bomber del Val di Chienti Ponte con le proteste allora non c'è bisogno di sanzionarlo di scriverlo nel tacquino dei cattivi gioco ripreso bene rotondo per Gambini ancora rotondo fallo duro questo ai danni di Gambini e stavolta il giallo c'è terzo monito nel Val di Chienti Ponte cartellino giallo anche per Ribichini quando siamo all'undicesimo minuto del secondo tempo Gianluca volevi dire qualcosa sì volevo sottolineare la prestazione del centrocampo della Vigor che mi sembra molto ben assortito i tre centrocampisti con Delrico che fa un po' il verticeato fa il tre quarti però sia Gambini che ha fatto una buonissima partita ma Mancini ne ha fatta una altrettanto buona Siena lo stesso ha fatto pure gol sono tre giocatori importanti giovani ancora e hanno fatto una buona partita fin qui il Val di Chienti ha gli attaccanti un po' troppo lontani tra loro e i centrocampisti lontani dagli attaccanti così è fatica a far gol perché poi rimangono gli attaccanti isolati e devono vivere di loro spunti Corno Pischu che ce n'ha diversi ma in questa categoria con i difensori che girano è chiaro che lottare da solo è difficile Ribichini è bravo ma gli gioca un po' troppo lontano e ripeto sono isolati rispetto un po' ai centrocampisti non bastano le invenzioni o la geometria di Borgese bisogna che il Val di Chienti ritrovi un po' le distanze tra i reparti e accompagni l'azione degli attaccanti perché se no la vedo dura salire col baricentro e fare giocate importanti come quella di Delrico Pocanzi sulla sinistra che ha fruttato un calcio di punizione da posizione molto interessante visto quanto abbiamo ammirato in occasione del 2-0 seguiamola attentamente proprio Delrico pronto a mettere il pallone nel cuore dell'area ma a cercare ancora Pesaresi che era svettato di nuovo in maniera molto libera la palla è stata ribattuta fuori si è coordinato da campione e avete sentito probabilmente entrare nel microfono il complimento di Gianluca Fenucci per questa conclusione in perfetto stile di Gambini da 30 metri si è coordinato con la gamba che si è elevata a colpire la palla con il collo del piede destro palla che era molto bene indirizzata Tavoni ha fatto buona guardia l'ha mandata in corner ancora Vigor però che si riporta in avanti altra pennellata di Delrico stavolta però colpisce troppo sotto Delrico la sfera termina fuori direttamente dalla parte opposta dell'area di rigore della linea di fondo campo e quindi si riprenderà con una rimessa di Tavoni gran conclusione di Gambini che abbiamo annotato al tredicesimo minuto del secondo tempo seconda occasione dopo il gol realizzato da Pesaresi in questa ripresa peraltro ancora non ci sono sostituzioni considerando la possibilità dei cinque cambi sembra una rarità in questo nuovo calcio fammelo chiamare così Gianluca post covid o purtroppo dentro l'era covid con tante sostituzioni a disposizione dei due allenatori ancora nessun cambio in particolare potrebbe spiccare il fatto che non sia stato sostituito alcun calciatore nel Val di Chienti Ponte visto il doppio svantaggio ancora Val di Chienti Ponte il suo allenatore Luigi Giandomenico che vuole ragionare per capire bene se e come cambiare ora invece deve ragionare bene come mettere la barriera Simone Tavoni che da ex compagno di Dennis Pesaresi sa benissimo che nonostante siamo a quasi 30 metri dalla porta da quella posizione Dennis Pesaresi sa far male e può far male e quindi è una punizione da seguire con grande attenzione con grande interesse questa per la Vigor Senigallia quattro in barriera Siena e lì di fianco forse a coprire un po' la visuale fino all'ultimo per il portiere del Val di Chienti Ponte il fischio del direttore di gara rincorso abbastanza breve di Pesaresi tiro centrale e alla fine quasi una telefonata per Tavoni che non deve neanche danzare nei pressi della linea di porta per andare a recuperare il pallone nulla di fatto una chance è terminata tra le braccia del numero uno della formazione di mister Gian Domenico si resta sul 2-0 quando siamo al quindicesimo del secondo tempo Borgese che classe in questo aggancio con grande padronanza tecnica e sicurezza mette giù un pallone che sembrava addirittura forse troppo lungo lo fa con una naturalezza da campione è lui sempre a fare da regista nelle azioni del Valdichienti qua una finta cerca una giocata una verticalizzazione si appoggia su Ribichini anzi no è Gagliardini per l'arbitro l'intervento di Gambini è falloso e quindi c'è un calcio di punizione anche questo da una posizione interessante invece batte rapidamente Borgese vanifica tutto Gagliardini colpendo molto male il pallone con il sinistro si era fatta sorprendere un po' qua la difesa della Vigor dalla battuta rapida di Borgese mentre c'è bisogno del pallone per giocare si prepara adesso il primo cambio al sedicesimo minuto del secondo tempo esce il numero quindici anzi esce il numero sette Emiliozzi entra il numero quindici Marcelli primo cambio da parte del Valdichienti il Valdichienti in panchina ha giocatori importanti se non entrano giocatori come Montserrat come Lattanzi come Palmieri evidentemente non stanno benissimo è entrato questo ragazzo che è un 2003 se non vado errato sarà sicuramente promettente ma molto giovane non credo che da solo riesca a cambiare un po' l'inerzia della partita che adesso è a tutta a favore della Vigor indubbiamente da un punto di vista tattico qualcosa cambia perché questo ragazzo mi sembra giochi dietro le punte e come dicevo prima forse anche Gian Domenico si è accorto che tra il centrocampo e l'attacco c'è pardon Gianluca pardon Gianluca seguiamo questa azione d'attacco con Siena che attacca sulla fascia vede in mezzo Mancini di testa il pallone arriva da Carzetti prova la rovesciata Carzetti sembrava una giocata improbabile e invece Carzetti si becca gli applausi del pubblico con il pallone che termina fuori non di molto perdonami Gianluca a te no no niente dicevo che con questo ragazzo che è un 2003 sarà sicuramente interessante lo fa giocare dietro a Cornopisciu che a Ribichini probabilmente prova a legare un po' meglio i reparti e per quello che riguarda la Vigor Carzetti si è reso pericoloso ha conquistato prima la la punizione adesso ha fatto questa rovesciata che insomma per far gorda lì così ci voleva un fenomeno lui è bravo ma insomma comunque è un giocatore che tiene sempre in ambascia le difese è probabile che tra un po' anche Aldo Clementi cambi qualcosa perché da un punto di vista tattico forse gli serve un po' più di corsa in qualche zona di campo e gli serve qualche copertura in più però ripeto finora la Vigor non sta soffrendo moltissimo le iniziative del Val di Chienti Ponte e allora vediamo se cambia in qualche modo il tema tattico della partita con questo primo cambio operato da mister Gian Domenico di certo stanno cambiando i risultati negli altri campi ricordiamo che Vigor Senigale a Val di Chienti Ponte è iniziata alle ore 15 quindi mezz'ora prima delle altre che stanno terminando hanno terminato il primo tempo per chi è sintonizzato esclusivamente su questo canale su questa partita possiamo dire che Lanconitana sta vincendo per 3 a 0 sul San Marco Servigliano Lorese dopo la doppietta di Falconeri ha segnato poco fa Marra Besi il Montefano è andato in vantaggio poc'anzi con Bonacci sul campo del Marina Capolista e poi fine primo tempo Porto d'Ascoli Grotta Mare 0 a 0 fine primo tempo anche a Fossombrone con i padroni di casa in vantaggio 1 a 0 sul Fabriano Cerreto il finale nel frattempo della prima frazione arriva anche da Marina e poi altri risultati Atletico Ascoli avanti sotto anzi 2 a 0 sul campo dell'Azzurra Colli quindi Azzurra Colli 2 Atletico Ascoli 0 questi alcuni risultati che proviamo a darvi in tempo reale grazie ai colleghi e agli amici di ETV Marche e quindi torniamo in telecronaca siamo arrivati pardon siamo arrivati già un piccolo problema tecnico che abbiamo subito sistemato siamo arrivati al minuto 20 del secondo tempo il pallone che arriva dalle parti di Derrico quindi Carzetti lo difende da Leone poi appoggia bene per Nacciaretti prova ad allungare il passo Nacciaretti lo segue di fianco in parallela anche Mancini scambio fra i due bella la verticalizzazione per Pesaresi l'ultimo tocco è da parte se non vado errato di Muzzi così è quindi si riprenderà con un calcio d'angolo per la Vigor Senigallia come al solito lo specialista è Gianfranco Derrico che tanti pericoli ha creato già in tre gare con i suoi calci piazzati con il San Marco Servigliano un assist direttamente dal calcio d'angolo e un gol nato dallo sviluppo di un corner battuto al numero 10 Vigorino e oggi la pennellata avalza il colpo di testa di Pesaresi in occasione del 2-0 c'è ancora lui dalla bandierina Gianfranco Derrico classe 1994 ormai punto fermo della formazione senigallese sei uomini in area per la Vigor che non rinuncia ad attaccare il pallone arriva da Mancini che di testa lo manda fuori di un soffio e dietro di lui c'era Pesaresi che ha simulato il movimento come a pensare che il pallone sarebbe arrivato dalle sue parti occasione ancora per la Vigor che ha sfiorato il 3-0 a 20 minuti e 35 secondi se vogliamo essere pignoli e precisi il colpo di testa di Mancini a mandare la sfera fuori non di molto Vigor che però sta legittimando sempre di più il suo vantaggio anzi il suo doppio vantaggio arrivati ormai a questo punto grazie ai gol di Siena al decimo del primo tempo e Pesaresi al minuto numero 6 del secondo tempo attenzione sulla fascia però a Stortini che cerca di mettere il pallone dentro crossa molto profondo forse troppo Salvatelli rincorre la palla riesce a raggiungerla poi bello invece il suo cross tagliato a cercare Ribichini fa buona guardia Edoardo Roberto mentre vediamo un movimento dalle parti della panchina della Vigor che si appresta ad effettuare evidentemente la prima sostituzione vedremo fra poco quale sarà il primo cambio operato da mister Clementi nel corso di questo match quando siamo ormai a metà esatta del secondo tempo ventiduesimo che sta per scadere anzi scade in quest'istante si distende bene però adesso la Vigor pesa anzi Derrico che serve bene Carzetti si alza la bandiera sul taglio di Carzetti c'era fuori gioco Gianluca dici si c'era un fuori gioco non nettissimo ma Guardialino Erelline è stato bravo dicevamo prima della importanza del centrocampo della Vigor sono giovani e sono bravi perché anche in fase di qualità di possesso è andato vicino a un gran gol Gambini con quel tiro da fuori è andato vicino al gol Mancini con questo colpo di testa a suo angolo e quando c'è i tre giocatori così che danno un apporto di qualità e di quantità di questo livello io credo che come spesso si dice il centrocampo sia il reparto fulcro della squadra non l'unico importante perché tutti sono importanti però la vigora a questi tre centrocampisti che finora hanno fatto benissimo si è decisa qui la partita probabilmente fino a questo momento lo chiederemo fra poco a Gianluca Fenucci mentre c'è il primo cambio nella Vigor esce Carzetti fra gli applausi al suo posto Filippo Arzendi il tuo giudizio sulla prestazione di Carzetti Gianluca generoso un lottatore un giocatore che l'abbiamo sottolineato tante volte si è si è battuto si è speso per la squadra poi ha fatto anche delle giocate individuali importanti è un giocatore che vive per il gol quindi magari gli manca questa cosa di non far gol però deve capire che con tutto il rispetto qua non è all'Atletico Alma dove era l'unico giocatore che poteva magari incidere e tutti giocavano per lui quando qui hai giocato un'ora e l'hai giocata bene che tra l'altro non hai giocata di più di un'ora e l'hai giocata insieme agli altri e la squadra vince 2 a 0 hai fatto più del tuo dovere deve essere contento sarà sicuramente soddisfatto della sua prestazione e di quella della squadra bene così dunque la Vigor bene così anche Carzetti Val di Chienti Ponte però che ovviamente non vuole assolutamente mollare ci sono ancora 21 minuti più recupero da giocare quindi un'eternità in tema calcistico la partita aperta ad ogni soluzione con la Vigor che però sembra fino a questo momento in controllo e sembra non rischiare più di tanto sugli attacchi portati dal Val di Chienti Ponte come in questo caso con un lancio interessante dalle retrovie arriva Gambini a fermare il tiro che era pronto era in canna da parte di Kornopisciuk il numero 9 ha caricato il destro pronto a calciare verso la porta difesa da Roberto alle spalle è sbucato come un falco Gambini a fermarlo così come alle spalle adesso di un giocatore in maglia nera è sbucato il neo entrato Filippo Arzendi classe 2003 anche lui una Vigor che veramente mette in campo alcuni giovanissimi calcio d'angolo attenzione il pallone nell'area Svetta Pesaresi che dà una gran mano ovviamente grazie alla sua altezza anche in difesa così come Maggi Galluzzi padrone dell'area di rigore allontana il pallone dalle parti di Delrico che porta fastidio e pressione ai danni di Stortini piccolo contrasto fra i due segno di intesa immediato nel segno della totale sportività e comincia dalle retrovie una nuova trama di passaggi e di attacco da parte del Val di Chienti Ponte ma inizia male perché Gagliardini inizia ad accusare anche un po' evidentemente di stanchezza e manda il pallone in malo modo in fallo laterale lui ovviamente il primo a rammaricarsi per questo pallone regalato alla Vigor 25 minuti e 30 secondi siamo sul punteggio di 2 a 0 per la squadra di Aldo Clementi fino a questo momento decidono due pesaresi doc come Siena e perdonate il gioco di parole due senigalesi doc ovviamente qui mi sono incartato totalmente Siena e Denis pesaresi la Vigor attacca con Nacciarriti il pallone va da Marini che lo controlla e tocca l'indietro per Roberto e quindi va da Nacciarriti buono il controllo orientato di Nacciarriti la palla per Derrico di prima Arzendi pesaresi serve un fallo per fermare questa bella azione d'attacco della Vigor che raccoglie gli applausi da parte della tribuna del Bianchelli davvero gran bella azione corale da parte dei rosso-blu di Senigallia che adesso soffrescono di un calcio di punizione qualche metro avanti rispetto alla linea di centrocampo sistema la palla Gambini ci sono anche Derrico e Marini da quelle parti Derrico invita Marini a lasciargli la battuta e Marini si va a portare in avanti a dare supporto in zona Torri alla Vigor Senigallia sono saliti sia Maggi Galluzzi che Marini non rinuncia evidentemente ad attaccare la Vigor Senigallia vuole sfruttare ogni situazione comprese le palle inattive soprattutto le palle inattive il pallone in area lo prende Maggi Galluzzi lo manda da Pesaresi ma non fa in tempo a coordinarsi il capitano quest'oggi della Vigor il bomber l'ariete anzi il cigno come lo chiamano qua a Senigallia Denis Pesaresi che quindi si trova il pallone schizzare si vede schizzare il pallone sulla sua spalla prima di terminare la corsa oltre la linea di fondo campo 27 anzi 28esimo minuto ormai di questo secondo tempo Val di Chienti Ponte manda il pallone in avanti lancio di Muzzi Mancini lo tiene in campo e riesce addirittura a lanciare Pesaresi la corsa di Pesaresi fermata da un ottimo intervento scivolata di Michelangelo Monaco l'ha fatta di un soffio a toccare il pallone mandarlo oltre la linea del lato lungo e quindi oltre la linea del falo laterale la rimessa è affidata a Nacciarriti che l'ha lasciata scorrere quindi per Derrico prova ad accentrarsi Derrico cade a terra subisce anche un pestone inciampato da solo a dire il vero Derrico prima di perdere il duello spalla a spalla e poi ha subito un pestone involontario da parte di un avversario rimane a terra Derrico per fortuna si rialza sembra non essere nulla di grave però la botta c'è alla caviglia destra Derrico che ha messo male il piede nel tentativo di ingaggiare il duello spalla a spalla con un avversario sembra però essere in grado di continuare la sua partita senza particolari problemi mentre Stortini lotta con Arzendi bel fisico per il numero 18 classe 2003 della Vigor Senigallia che giovane ha 17 anni compiuti il giugno scorso ma che insomma mostra un fisico assolutamente invidiabile eccolo qua che gioca bene di prima per Derrico che allarga di prima intenzione fa salire rotondo palla per Pesaresi non riesce ad appoggiare per lo stesso Arzendi allora palla riguagliata al Val di Chienti Ponte deve ripiegare rapidamente la Vigor in questo caso forse per la prima volta un po' scoperta su un contropiede del Val di Chienti e allora Ribichini attende la sovrapposizione di Stortini le sue finte prova a entrare in l'area di rigore Ribichini decide di fare tutto da solo sbaglia così come sbaglia però anche Naccia Riti la palla poi va sulla spalla crediamo di Gambini invocano il rigore quelli della squadra di Gian Domenico squadre ora lunghe siamo alla mezz'ora del secondo tempo Derrico può puntare face to face un avversario le sue finte Derrico Calibel e fa impazzire la tribuna della Bianchelli grandissimo gol di Gianfranco Derrico Gianluca un gol degno di altre categorie di altre plate se l'avessero segnato in serie A questa questo gol qua avrebbe fatto il giro di tutti i programmi delle televisioni di tutto il mondo grande gol che impreziosisce una prestazione di grande qualità un ragazzo che io avevo voluto fortemente alla fermana era un ragazzino e un ragazzo molto promettente adesso è diventato un uomo è diventato maturo è diventato un giocatore completo che sa far tante cose e anche in questa posizione che gli ha ritagliato Aldo Clementi direi che si esprime benissimo tra le linee appena c'è un attimo se fa un controllo giusto se fa un dribbling si trova spesso libero e veramente la conclusione è da serie A perché l'ha messa veramente all'incrocio dei pali un grande gol e beh insomma giù il cappello di fronte a questa giocata di Gianfranco Derrico dunque che ha lavorato il pallone sulla tre quarti con molto spazio lo stavamo dicendo squadre allungate quindi spazi per la qualità come in questo caso quella di Siena che prova ad emulare il suo compagno in maglia numero 10 Andrea Siena ha inseguito con questo tiro la doppietta personale ha calciato in maniera differente a incrociare ma il pallone è stato respinto da Tavoni mentre arriva anche il secondo cambio sia per il Val di Chienti Ponte che toglie il numero 8 Gagliardini e inserisce il numero 14 si tratta di Alessandro Marconi e secondo cambio anche per la Vigor che toglie proprio Andrea a Siena tra gli applausi esce lui ed entra il numero 16 al suo posto quindi c'è Michele Carbonari un po' di forze fresche Gianluca Carbonari sarebbe titolare in qualsiasi squadra probabilmente qua c'è l'imbarazzo della scelta Siena nell'occasione precedente ha tirato in porta e ha fatto anche bene se avesse visto Mancini che sovrapponeva Mancini avrebbe potuto trovarsi davanti alla porta però è chiaro che sul 3 a 0 magari anche Siena si è un po' ingolosito per far la doppietta e poi non ha voluto rischiare un passaggio se avesse servito Mancini è probabile che Tavoni non sarebbe riuscito a intervenire direi che il 3 a 0 rotondo anche meritato il Valdicchianti Ponte nel secondo tempo ha fatto poco ha tenuto un po' la palla ma ha fatto veramente poco del resto come dicevamo la qualità dei giocatori della Vigor secondo me è superiore Vigor che quindi secondo Gianluca Fenucci sta meritando ampiamente questa vittoria risultato d'altronde abbastanza eloquente c'è da dire che il portiere della Vigor Edoardo Roberto di fatto non ricordo abbia effettuato alcuna parata veramente importante sì attento in alcune occasioni sì qualche insidia davanti a lui ma di parate vere insomma in sostanza di occasioni vere il Valdicchianti Ponte fino a questo momento non ne ha create ci prova adesso Corno Pischuc che ha lottato tanto ma ha creato poco anche perché poco è stato supportato dai compagni mentre adesso guadagna un calcio di punizione Denis Pesaresi gli dà il 5 l'altro capitano Borgese scambio di sportività e di segnali di fair play fra due grandi calciatori come Borgese e Denis Pesaresi tutto questo quando siamo sul cronometro al minuto numero 34 del secondo tempo e si sta divertendo adesso la dirigenza della Vigor Senigallia che insieme ai giocatori infortunati ed alcuni addetti ai lavori locali stanno distribuendo applausi a tutti i protagonisti non di certo in questo caso inizialmente perlomeno a Rotondo che ha perso un pallone in maniera un po' troppo leggera e poi è andato a commettere fallo regalando di fatto un calcio di punizione al Val di Chientiponte 34 minuti esatti sul cronometro in questo istante ne mancano 11 più recupero la Vigor sta vincendo 3 a 0 grazie ai gol di Siena nel primo tempo di Denis Pesaresi e Derrico nella ripresa pallone riguadagnato dalla Val di Chienti Borgesi bell'ancio ancora una volta per Ribichini lo mette giù a due avversari su di lui il solito inesauribile Mancini a strappargli il pallone da anche lui adesso qualche segnale di stanchezza ma Mancini ha fatto una partita di sostanza clamorosa su questa corsia nel primo tempo era più lontano l'avevano ammirato ma un po' meno in questo secondo tempo ci ha fatto vedere 3 o 4 cose eccolo qua che schizza sul pallone a pressare a togliere fiato idee e tempo agli avversari e mister Fenucci ci insegna quanto sia importante accorciare il tempo della giocata degli avversari togliere il tempo di ragionare lo spazio per effettuare le giocate Mancini in questo è stato ed è realmente un grande maestro fra i migliori in campo in quanto a sostanza Mancini Gianluca secondo me sì uno dei migliori in campo di gran lunga direi perché ha fatto tutto ha fatto il cursore ha fatto l'interditore ha rubato tanti palloni è andata alla conclusione anche come sottolineavo dieci minuti fa poteva andare a far pure gol perché aveva sovrapposto su quel tiro che aveva fatto poi Siena adesso lo cambia è anche normale sul 3-0 questi sono giocatori che sono importanti non è che la partita è finita però insomma manca mancano dieci minuti è impensabile che il Val di Chienti Ponte segni tre gol in questo periodo anche se in questi pochi minuti anche perché è vero che è una squadra forte ma finora non si è mai resa pericolosa quindi è probabile che Aldo Clementi pensi anche a preservare le energie di alcuni giocatori che sono indubbiamente molto importanti nell'economia del gioco della Vigor ed è uscito ovviamente fra gli applausi delle persone presenti qui al Bianchelli e anche della panchina Mancini lo stavamo elogiando quindi è proprio arrivato anche a modo di premio probabilmente questa sostituzione al suo posto un altro giovane molto interessante della Vigor Senigallia si tratta del numero 19 Alessandro Tomba il terzo 2003 in campo in questo finale di gara ovviamente un po' di esperienza in meno un po' di freschezza in più per mister Clementi che dispone di una panchina comunque sia importante perché questi sono giovani validi e oltretutto è entrato Carbonari ci sono giocatori anche come Minardi in veste di portiere di maglia numero 12 poi c'è Marzano Vitali che non è al meglio ma forse se ci fosse stato bisogno se ci fosse bisogno potrebbe anche entrare oltre agli altri giovani come Rossetti Orciani e Omenetti insomma una Vigor che dispone anche di una panchina alquanto interessante una Vigor che adesso però si deve difendere da questo cross di Ribichini Mattia Ribichini mi viene da dire che sia Cornopisciuk che Ribichini sono stati molto generosi però un po' poco supportati da vicino perlomeno solo palloni dalle retrovie da Borgesi un po' forse come ci hai fatto notare in maniera molto interessante tu Gianluca è un po' troppo lontani fra di loro si sono trovati troppo spesso da soli a provare a inventare qualcosa e fin qui non ci sono riusciti attenzione a questo corner però per il Val di Chienti Ponte che crea qualche insida dalle parti di Roberto angolo battuto da Borgese palla deviata di testa da un calciatore che onestamente non sono riuscito a riconoscere in mezzo alla selva di giocatori di maglie all'interno dell'area di rigore fatto sta che il pallone è terminato fuori si è subito rialzato Roberto arriva un altro cambio nella Vigor il quarto cambio esce Nacciarriti che si è speso nelle vesti di terzino destro e alla suo posto entra Marzano sì direi che la Vigor ha cambiato qualcosa anche a livello tattico con l'ingresso dei due ragazzi di tomba e dell'altro ragazzo che è interessante Arzendi è più un 4-4-2 che un 4-3-3 o che un 4-3-1-2 come all'inizio credo che adesso è un po' per far rifiatare quelli che hanno speso di più quelli che hanno dato di più e la partita insomma è saldamente nelle mani della Vigor credo che la possa la possa portare in porto con una certa facilità è vero che adesso Gambini si è rimesso davanti alla difesa però diciamo che le caratteristiche dei giocatori in campo sono comunque meno offensive sia di Carbonari che di Tomba quindi penso che la Vigor sta gestendo questi minuti però c'è un colpo di scena clamoroso abbastanza clamoroso perché per un motivo che onestamente non sono riuscito a vedere ero concentrato sui cambi sulle distinte Rotondo si è beccato il secondo cartellino giallo e è stato ammonito di nuovo e quindi ha beccato il cartellino rosso è stato espulso dal direttore di gara molto rigido evidentemente l'arbitro non ho visto schermaglie o cose particolari probabilmente ha allontanato il pallone facendo un passaggio di troppo dopo il fischio del direttore di gara così mi stanno facendo capire i colleghi che ringrazio per questo motivo però Rotondo deve abbandonare la partita un'ingenuità dai servirà da lezione da giovane un'ingenuità da giovane e ecco forse magari eh Aldo avrebbe potuto cambiare lui perché era comunque ammonito ma certo sul 3 a 0 allontanare la palla e prendere un secondo giallo gratuito mi sembra una cosa grave soprattutto perché era un ragazzo che finora aveva fatto benissimo a livello difensivo non si trovano tanti ragazzi così determinati aveva spinto ma aveva soprattutto giocato molto bene a livello difensivo quindi mi dispiace dispiace anche penso a tutti perché doveva finire la partita non credo che inficerà la vittoria della Vigor però insomma è chiaro che giocare in 10 non è non è positivo e soprattutto pensando alla prossima sì sicuramente una senza che si farà sentire in particolare la prossima partita però mi è piaciuto molto il tuo commento Gianluca perché insomma con l'occhio e la mente di un allenatore hai detto sì d'accordo l'arbitro severo un giallo veletario ma alla fine è un fatto fra virgolette sportivamente parlando grave che un giovane che sa sul 3 a 0 di essere già stato ammonito allontani la palla con un po' troppa disinvoltura tutta roba da mettere nella valigia chiamata esperienza questa insomma tutta in questo caso magari il prezzo da pagare sarà soprattutto l'assenza nella prossima gara perché qui mancano 3 minuti e pensare ad un ribaltone del Valdichienti al momento ci sembra davvero difficile ma sicuramente a livello di esperienza e di assenza nel prossimo turno questo lascerà un segno in rotondo ora si difende comunque la Vigor perché Valdichienti Ponte comunque con orgoglio Contenaccia ha continuato sempre a spingere non è mai stata rinunciatare questo va assolutamente sottolineato perché non è stato un brutto assolutamente Valdichienti Ponte un po' sterile sin qui in fase offensiva vuoi per demeriti propri vuoi per meriti della difesa della fase difensiva della Vigor Senigale che poi invece in attacco con le sue bocche di fuoco con i suoi giocatori più tecnici ha saputo far male Pesaresi non aggancia il pallone ci avviamo veramente verso le battute conclusive del match con il giovane Tomba che si è posizionato adesso lì come terzino sinistro al posto di Rotondo e è entrato sembra con l'atteggiamento giusto andando a lottare sui primi due palloni che gli sono capitati sotto mano da quella parte può usufruire comunque di una rimessa laterale in zona d'attacco la formazione di Gian Domenico che ora osserva in panchina in maniera ovviamente più calma e un po' più dimessa rispetto a tutto il resto della partita compreso che ormai la sconfitta è una quasi certezza mentre la Vigor conquista un calcio di punizione e allora c'è tempo per riposare ma c'è tempo anche per una sostituzione ulteriore la quinta ed ultima nella Vigor Senigallia che manda dentro tutta la linea verde della panchina e fa raccogliere anche i meritati applausi Gianluca a Gianfranco Del Rico ricordiamo ancora il gol realizzato dal numero 10 per questo gli applausi sono particolarmente importanti al suo posto entra Nicola Orciani un altro talentino 2001 bene mi fa piacere che entrino tanti giovani mi fa piacere che Del Rico raccolga i meritati applausi è stato sicuramente l'autore del giorno più bello della giornata e gli applausi sono veramente meritati e guadagnati sul campo mi fa piacere soprattutto perché si è diventato veramente un giocatore maturo un giocatore completo e può essere l'arma in più di questa Vigor che con lui trova anche creatività e fantasia mentre gli altri centrocampisti sono molto di sostanza prima Gambini ha dimostrato che cosa deve fare un centrocampista centrale quando non è in possesso di palla ha salvato praticamente un'occasione nell'area piccola mettendo la palla in calcio d'angolo e c'è qualità c'è varietà ripeto la Vigor può ambire certamente ad essere l'anti-Ancona o comunque ad essere tra le prime due o tre squadre del campionato perché c'ha c'ha tutto c'ha l'organico c'ha tutto ti è piaciuta insomma la Vigor è piaciuta Gianluca Fenucci la Vigor Senigallia ammirata oggi beh come essere in disaccordo con lui una Vigor Senigallia che ha concesso davvero poco in fase difensiva che si è fatta apprezzare nel complesso anche per le sue manovre palla al piede ed è stata cinica ed efficace al punto giusto in attacco con dei giocatori che ovviamente sono invidiati da molte altre formazioni e visto che un gol è arrivato a centrocampo con Siena gli altri due dagli attaccanti Pesaresi e Derrico soprattutto a questi ultimi due ci rivolgiamo due attaccanti davvero importanti per il campionato di eccellenza mi piace anche la sottolineatura su Derrico che insomma per il mestiere che faccio seguo da tanti anni un ragazzo che sin da giovane si era mostrato un grandissimo talento anzi forse quando era giovane anche di più poi è sceso di categoria forse per un po' di pigrizia visto che lo conosco personalmente lo voglio anche un po' spronare e invece poi qua a Senigale ha ritrovato un ambiente che lo ha fatto crescere lo ha fatto sbagliare il giusto lo ha fatto tutto sommato maturare e tornare ai massimi livelli lo ha fatto diventare un uomo un calciatore vero complimenti a Gianfranco Derrico per le ultime prestazioni in particolare per il gol oggi un gol suggellato anche dall'assist mentre qua stavo per dire è partito in posizione regolare Pesaresi ho qualche dubbio personalmente su questa bandierina alzata io li ho visti sono di fronte al punto in cui è scattato Pesaresi e il difensore mi sembravano in linea però insomma il guardaline sa fare meglio di me sicuramente il suo lavoro e quindi ha segnalato il fuorigioco palla recuperata adesso da Orciani con la sua folta Chioma prova a scappare via sulla sinistra viene fermato c'è molto spazio da quest'altra parte per Stortini che invoca il pallone Borgese lo ignora torna ad andare per via centrali il capitano del Val di Chintiponte adesso si arriva sulla sinistra con Tassetti in entrato che appoggia per Stortini verticalizzazione all'indirizzo di Marcelli però fa ottima guardia Gambini beh abbiamo speso tante parole per Mancini adesso che Mancini è uscito mi viene da evidenziare un elogio per Gambini playmaker moderno che sa abbinare regia e quindi testa e piedi a quantità e anche efficacia con il fisico e con il con la spada oltre che al Fioretti insomma Gialluc sì sì l'abbiamo detto l'ho detto un attimo fa Gambini ha fatto benissimo come Mancini si hanno fatto gol ma gli altri due secondo me si sono fatti apprezzare per quantità e qualità di Derrick come avevo detto prima l'ho portato sette anni fa alla Fermana in Serie D e sinceramente era ancora acerbo anche se aveva grandi qualità forse non era quello l'ambiente per crescere perché a Fermo c'era da vincere presto qua ha fatto un percorso un percorso importante è diventato sicuramente un giocatore completo e come dicevo prima può essere la ciliegina sulla torta di una Vigor che sa il fatto suo e sa interpretare adesso ripeto c'è anche da mettere in conto che manca Lazzari manca Vitali in particolare Lazzari che a questa squadra può dare veramente tantissimo quindi è una una delle squadre migliori del campionato nel fratello abbiamo visto Pesaresi ero pronto a scipparti il microfono perché se fosse arrivato un gol del genere avrei urlato sino a rompere i vetri del gabbiotto così come lo chiamiamo qui al Bianchelli per evidenziare una giocata del genere invece il suo tiro è risultato corto e Tavoni ha potuto fare buona guardia ovviamente una Vigor che gioca anche leggera di testa in scioltezza a porte dei tre gol di vantaggio nonostante ricordiamo l'inferiorità per l'espulsione di Rotondo giunta al minuto numero 40 del secondo tempo qua Borgese ruba palla ad Arzendi che poi strattona il capitano del Val di Chientiponte vediamo se l'arbitro la munisce sembrerebbe di no ma forse ci stava se volessimo essere fiscali il giallo ai danni del giovane Filippo Arzendi stavolta ha chiuso un occhio il signor Batini di Foligno punizione 7-8 metri fuori dall'area di rigore attenzione però a Borgese sembra voler crossare ma potrebbe anche calciare quindi deve stare attento Edoardo Roberto il portiere in maglia gialla della Vigor fischio direttore di gara pennellata nel cuore dell'area di testa saltano diversi giocatori la palla viene toccata e arriva il tripice fischio attenzione Grazie a tutti.